Questo è esattamente da sei mesi, adesso tocca a noi, poi volentieri, dopo ci mettiamo un caffè. Qual è il punto centrale? Dall'altro... Buona, 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 per me lì, per me, allora... Siamo venuti a vedere la pubblicità del tutti, la pubblicità del tutti, non la vogliamo! Buon gioco, buon giletto di però, tu stai guardando la seconda, tu stai guardando con la poesia, non la vogliamo! non è un po' di male non è un po' di male non mi sta facendo male non mi sta facendo male non mi ha fatto male cioè inserire il fatto della scuola dentro il primo anno dell'attività di Veneto e io ho ricevuto un sacco di cose e me le prendo tutte per aver scelto di fare che cosa? per aver scelto di non fare una cosa on the creme non ho solito voi prima a presentare delle linee guida a tutti i operatori della scuola e poi arrivare alla fine al decreto legge il disegno di decidente o critiche in tutti i posti e una di più